Amici e amici, qui Oksana Fiedi che vi parla. Oggi per voi ho preparato una sorpresa, una meditazione con aiuto di quale potete comunicare con i vostri angeli guida, con i vostri angeli custodi, con le divinità di vari livelli energetici. Potete comunicare anche con i vostri parenti, potete comunicare con vostra anima. Tutto ciò che è nascosto dai nostri occhi vive in un mondo energetico. Perciò vi propongo una meditazione rarissima, introvabile su web italiano, attraverso quale vi guiderò e collegherò con quegli esseri di altri mondi astrali, sottili e energetici con quale vorrete comunicare. Con questa meditazione sono riuscita a comunicare con mio angelo, perché la richiesta con quale sono entrata in questa pratica era proprio di avere la conferma dell'immagine e del nome che avevo già sognato. E' stato confermato, perciò tutte le persone che credono, che conoscono, che sanno che oltre il nostro mondo fisico c'è anche un mondo energetico, quel mondo sottile, dove sono presenti tante energie, tante entità, divinità, spiriti guida, i nostri dei, tutti quegli esseri che noi non percepiamo con i nostri occhi. Questa tecnica proviene da una scuola esoterica russa e condivido con voi molto volentieri. E' una tecnica molto potente. Chi di voi è troppo sensibile, che è suscettibile o con una psiche instabile, che non crede nelle angeli, nelle energie, io vivamente vi sconsiglio di guardare e praticare questa meditazione. Invece tutte le persone che sono curiosi di scoprire questo mondo invisibile, di scoprire tutte quelle sensazioni che ogni tanto ci capitano, come le scosse che percorrono il nostro corpo, come quelle frequenze vibrazionali che ci fanno apparire la pelle d'oca, questi soni che ci arrivano ai nostri orecchi, tutti quelli formi di contatto energetico che vengono in contatto con noi, allora con questa meditazione vi si aprirà in una maniera veramente chiarissima. Chi di voi non riesce a svolgere meditazione in questo momento, salvate questo video e guardate in un altro momento. Ma vi assicuro che sarà molto, molto sorprendente. Oltre alla mia richiesta di conoscere il mio angelo custode in questa meditazione, poi ho fatto anche la domanda, che vorrei conoscere anche il mio spirito guida. E sotto le spoglie di questo spirito guida è arrivata una persona anziana, con i capelli bianchi, barba bianca, però dentro di me percepivo qualcosa di sbagliato. E allora in questa meditazione spiego molto bene che c'è un modo di proclamare, di apparire, togliere tutte le apparenze esterne e apparire in maniera naturale, mi si è apparsa un'entità molto negativa, che anche quella mi sono riconosciuta perché una volta avevo già sognato. Perciò se avete le domande da fare ai vostri angeli, ai dei, ai maestri guida, questa meditazione è proprio per voi. Vi porterò in un viaggio, vi metterò in condizioni di percepire e comunicare con quell'essere che vorrete porre le domande. Mi raccomando, pensate prima alla domanda, domanda deve essere seria, non è un gioco, non è un scherzo. Le varie entità non si disturbano per pura curiosità, ma per necessità. Se avete bisogno di avere le risposte alle domande di vostro futuro, di vostro lavoro, di alcuni eventi, allora potete contattare quella divinità e vi assicuro che riuscite a comunicare. Tante persone che hanno provato hanno avuto le conferme già dalla prima meditazione. Con questa meditazione potrai creare il collegamento e intraprendere una comunicazione diretta con gli angeli, con gli spiriti guida, con le entità o con le divinità. Visto che è molto forte, per chi ha timore o le persone molto sensibili, vi consiglio di non farla. Potete ascoltare e riprovare solo quando avrete il vostro stato mentale tranquillo e positivo. E adesso vi fornisco le istruzioni in che cosa consiste questa pratica meditazione. Quello che devi fare già da subito è essere positivo. Pensare solo al positivo, solo così potrai attirare le entità di livelli superiori. E visto che andiamo a comunicare con qualsiasi creatura ultraterrena, la nostra sicurezza e il nostro stato vibrazionale deve essere alto, perciò un sorriso sulle labbra ti aiuterà a cambiare la tua vibrazione. E adesso, giusto per renderlo in chiaro tutto il processo, diamo un'occhiata alle fasi dell'immersione. Primo, bilanciamo la respirazione. Faremo diverse ispirazioni ed ispirazioni, finché non ti sentirai completamente rilassato. giusto per entrare in una fase di trance. Quindi prendi già da subito una posizione comoda. Sdraiti o sediti comodamente. Poi, per un breve periodo, circa 5 minuti, osserveremo il nostro respiro, senza interferire con esso. E poi, successivamente, ci concentriamo sul nostro mento per entrare in uno stato di dormiveglia. E quando ti sentirai che il sono inizia a insinuarsi, è in questo momento che potremo fare una richiesta del tipo Voglio comunicare con mio spirito guida. Voglio comunicare con mio angelo costode. Riesci a sentirmi? E il processo avrà inizio. Ci sono diverse civiltà, dei dèi, spiriti, ma anche le entità negative che possano entrare in contatto con te. Potrai sentire molte voci contemporaneamente. Dovrai scegliere con chi parlare. E come faremo? È molto interessante, sai. Visto che sono le creature energetiche, devono rispettare una legge astrale. Dovranno sempre presentarsi. Dopo la tua domanda che sei, come ti chiami, ti devono rispondere. Non possono fare a meno che rispondere a questa domanda. Devono presentarsi e dichiarare il loro status e il grado. Perciò sei un angelo dirà il suo nome e dirà io sono un angelo. Se ci sono anche le entità negative, loro si presenteranno. Però possono anche trasformarsi in angeli perché hanno tali abilità da poter assumere qualsiasi immagine. Quello che dovrai fare è chiedere chi sei, come ti chiami e subito l'immagine falsa che avrà assunto spirito negativo. Si allontana da lui. Così vedrai se si tratta di una entità non positiva. Ti dirà il suo nome e ti mostrerà il suo aspetto reale. Questa è la legge del mondo astrale. Ciò chiedi sempre con chi stai comunicando perché il loro aspetto non significa nulla. Possono assumere qualsiasi aspetto. Non comunicare mai con il mondo negativo. Mai. Non portano a cose buone. Ricordiamo molto bene. Quindi facciamo insieme una sessione di immersione. Prendi una posizione comoda fai un respiro profondo ed espiro. Inspiro ed espiro. Cerchiamo di rilassarci profondamente. e ora fai un altro respiro profondo ed espiro. Se hai paura non farlo. Ti sconsiglio di proseguire. Invece chi non ha paura e lo sente di provare questa esperienza continuiamo con i nostri e rispiri. Fai un respiro profondo ed espira e ancora una volta un respiro profondo ed espira inspira inspira ed espira inspira ed espira ed espira ok osserviamo la nostra naturale respirazione e portiamo la nostra attenzione sul respiro senza interferire con esso solo osserviamo la nostra respirazione ti guiderò io ascolta la mia voce e non avere paura di nulla se dovesse sorgere qualche problema dall'altra parte immediatamente chiama a supporto il nostro creatore chiama il Gesù chiama Shiva che pratica buddismo chiama Arcangelo Michele chiama qualsiasi divinità che sempre ti è venuta in passato a supporto e tutto scomparirà in un istante perché tutti entità negative hanno paura di Dio di Gesù di Shiva osserva la tua respirazione respira in maniera naturale non interferire con il ritmo del respiro e ad ogni espiro il nostro corpo si rilassa sempre di più sempre più profondamente per quanto la nostra posizione te lo consente osserviamo come innalazione dell'aria entra nelle narici poi nella faringe e poi prosegue nei polmoni osserviamo poi come l'aria esce dai polmoni attraverso il naso osserviamo intero il processo di respirazione respiriamo in modo uniforme e calmo osserva il tuo respiro ci rilassiamo e osserviamo solo il nostro respiro rimuove tutte le aspettative non aspettare nulla di speciale come sarà così sarà se funzionerà allora è un bene se non funzionerà va bene anche così non speriamo in nulla monitoriamo semplicemente il nostro respiro rilassiamoci e risperiamo e ora lentamente iniziamo a sintonizzarci con l'essere con quale vuoi comunicare chi è con chi vorresti entrare in comunicazione con il tuo spirito guida con il creatore con il maestro spirituale con un angelo custode puoi pensare al suo nome pensa alle sue qualità iniziamo iniziamo a sintonizzarci sulle sue vibrazioni sulla sua onda cerca di sentire le sue frequenze gli impulsi percepisce qualcosa di nuovo non familiare potrebbe essere il calore calore interno in qualche organo o nell'intero corpo potrebbero essere vibrazioni nel corpo le scosse potrebbe trattarsi di una sensazione di formicolino potrebbero esserci anche rumori ronzie nelle orecchie o in un orecchio cerca di sintonizzarti con questa sensazione e diffonderti mentalmente con essa come se cercassi di riconoscere ascoltare o vedere con il tuo sguardo interiore se entri in contatto con un essere positivo sentirai il calore la sensazione di leggerezza di beatitudine ti sentirai in pace se senti un brevido di freddo significa che proviene dalle parti oscure potresti diventare ansiosa avere una specievole sensazione nell'anima potresti avvertire anche un odore sgradevole a un disagio generale al contrario le creature positive emanano un aroma gradevole e l'anima diventa leggera e armoniosa le presenze negative portano disarmonia e tu lo sentirai questo immediatamente questo è normale perché percepisce anti energia ti spiego in avanti come liberarsi immediatamente da questa presenza importante di non spaventarsi continuiamo osserviamo il nostro respiro ci rilassiamo ancora più profondamente e ora rivolgiamo la nostra attenzione al mento tutta l'attenzione portiamo al mento ci concentriamo sulle sensazioni al mento indirizziamo l'energia l'attenzione al nostro mento rispira concentra le tue sensazioni che provi concentrandoti sul mento il mento senti il tuo mento e allo stesso tempo pensiamo alle divinità o alla divinità che ti interessa se vuoi incontrare un angelo custode pensa ad angelo custode non sai che aspetto ha quindi non puoi immaginarlo continuo a concentrarti sul mento e pensa al tuo angelo custode o allo spirito guida ognuno si concentra sul suo spirito si sintonizza su qualsiasi divinità con quale desidera comunicare rispira e concentrati sul tuo mento ora dovresti già sentire una risposta nel tuo cuore sentire questa sottile vibrazione che proviene da questo essere dovresti già percepire un stato di presenza di un altro essere potresti non vederlo ma poi sentirlo poi percepirlo lo senti lo percepisce come se fosse a fianco a te c'è un'altra persona che percepisce la sua presenza anch'io insieme a voi mentre che sto registrando questa meditazione lo sento che non sono da sola sento che il mio orecchio sta fischiando e un brivido sta percorrendo il mio corpo prova a sintonizzarsi anche te con il tuo spirito guida o con la tua entità sentilo e inizia a comunicare mentalmente con esso ringrazialo per essere venuto da te e per la disponibilità di comunicare con te dilli che non vi devi ora di incontrarlo mandale un grazie per questo incontro mandalo dal profondo del cuore questo ti aiuta a stabilire un contatto soprattutto se comunichi per la prima volta pensa alle domande che ti preoccupano chiedi chi sei con chi sono in contatto aspetta la sua risposta sotto sotto forma di chiaro sapere o di una visualizzazione che ti appare nella tua mente chiedi come ti chiami e attenti una risposta assicurati di chiedere con chi stai comunicando c'è molto inganno nel mondo sottile più che sulla terra se un entità oscura ha assunto le sembianze di un angelo o di una persona a te vicina facendole una domanda diretta mostrami che sei veramente dovrebbe apparire il suo stato reale chiedi come ti chiami la falsa apparenza scompare all'istante se un spirito o un'entità negativa viene da te ringrazialo e chiedi di lasciare il tuo spazio chiama mentalmente solo le divinità buone angeli dei quei esseri con cui vuoi stabilire una connessione secondo la legge della libertà di scelta e di volontà una creatura non invitata è obbligata a lasciare il tuo spazio continuo quindi a sintonizzarti con la tua divinità fai una domanda e riceve le risposte con le sensazioni vibrazioni immagini che si realizzano come forma pensiero nella tua testa puoi fare tutte le domande che ti riguardano le risposte vengano decifrate del tuo cervello in alcuni pensieri parole numeri comunichi in modo naturale e a tuo agio non è necessario a flirtare con nessuno parla elementalmente proprio come con un amico come con un parente o una persona a te cara fai solo domande urgenti e importanti comunico quanto hai veramente bisogno non abusare dell'attenzione di tale creature non sono qui per scherzare e ora ti lascio da solo a comunicare con tuo essere il vostro collegamento è intimo e profondo la musica sotto il fondo ti aiuterà a entrare in contatto più profondo con tuo essere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.